buongiorno mondo buongiorno io sono veritalian idiots mi sono abbarbicato sotto al mio capannone questo è il mio canale cioè questa è la mia zampetta e benvenuti in un nuovo video ragazzi non perdiamo tempo perché mi è venuta un'idea geniale innanzitutto dove vado sopra no permesso buongiorno il primo dubbio che mi viene è che io ho sicuramente da qualche parte lo scarico prima di fare il video già ispezionato e non ho trovato una mazza speriamo che il dio della luce mi dia un segnale vediamo un po dove potrebbe essere se tanto mi da tanto con le mie zampette vi piacciono le mie zampette ragazzi guardate anche che calzine che c'ho su eccoci ragazzi sono passati dieci minuti in cui ho scartavetrato tutta una marea di cartoni sono arrivato a questo punto dove ho trovato esattamente questa che è la marmitta o il terminale scusatemi di scarico originale di codino bello sotto qua ho trovato casualmente questo cartone e guardate cosa c'è scritto gpr italia dunque se la fortuna ci assiste ragazzi io adesso vado lo alzo lo prendo e vediamo cosa c'è dentro trovato allora ragazzi guardate anche vi faccio anche una scenetta incredibile che regia gpr xo system gpr italian handmade prod ragazzi il problema è che era uno specifico da quad adesso andiamo ad aprirlo in diretta assieme ed è tanta tanta roba l'ho usato credo sul vecchio quad tre giorni dunque uno scarico totalmente nuovo ragazzi che vedevo di era il contrario mamma mia santa che roba allora l'ho spostato l'ho messo giù per terra perché voglio farvelo vedere nei dettagli ragazzi questi erano i collettori guardate che è comunque sia la qualità è qualcosa di veramente esagerato cioè gpr vabbè insomma il prezzo giustifica tutto scarico completo ragazzi e adesso passiamo al pezzo forte terminale di scarico ma d'oscola ragazzi che bus di b killer naturalmente noi non sappiamo neanche cosa sia oi raga fermi 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 è passato tipo saranno passati tipo tre quattro settimane un mese e mezzo non mi ricordo avete visto all'inizio del video che ero ancora con le zampette al vento invece adesso fa freschino cosa è successo nel frattempo avete sicuramente già visto il video del montaggio del nuovo scarico che per i più attenti è un acra china povich dove china vuol dire tutto capitemi però io voglio andare avanti in questo progetto folle e mi servite voi allora ho messo via no adesso sembra la canzone di liga bue anche no allora adesso tiro fuori qua lo scaricozzo gpr completo e mi servite voi perché c'è un problema di fondo e non tanto di fondo direi sostanziale perché come sapete il collettore originale che è questo ragazzi misura 28 mm adesso andiamo a prendere per essere precisi un calibro calibrino salve eccoci ragazzi allora preso il calibro attiviamolo 0 se ben ricordo cioè se ben ricordo non sono poi così rintronato anche se gli anni passano è sicuramente un 26 non è un 26 ah no sono proprio rintronato perché la parte qui ovviamente ragazzi più stretta la parte qua è più larga dunque noi dobbiamo prendere in considerazione questa parte qua che sarà sicuramente un 28 faccio la finta di misurarlo ma lo so benissimo esattamente 28 adesso a questo punto ragazzi tiriamo fuori dallo scatolone lo scaricozzo misuriamolo che se non ricordo male è un 58 e a questo punto mi servirete voi perché mi dovrete dire voi come fare perché io non ne ho idea non ho un tornio potrei prenderlo però ci sto pensando però posso andare da un fabbro o posso fare qualcosa in modo tale da avere una congiunzione giuntura o come volete dire voi e soprattutto qualcuno di voi sa dirmi se montando uno scarico così largo rispetto allo scarico originale ci saranno dei vuoti esagerati o ragazzi allora tirato fuori da l'ha messo qua anche in questa posizione un po fashion tutte le volte che lo vedo ragazzi mi si emoziona il sangue se così si può dire dove eravamo rimasti come diceva quel tale eccoci qua scaricone gpr che per i più attenti misura ragazzi la bellezza di 40 circa 42 centimetri a differenza invece dell'acra chiamiamolo così che ne misura 22 circa dunque siamo circa al doppio infatto di sifulot di lunghezza il diametro interno ragazzi di questo cannone misura io dico che se ricordo bene era 58 no come sempre non ne becco una 54 ragazzi 54 dunque abbiamo dall'altra parte un 28 millimetri e qui abbiamo un 54 millimetri la domanda delle domande ragazzi è questa come far sì che un collettore da 28 millimetri possa entrare a pelo pelo giusto per far sì che collettore e terminale di scarico si incastrino alla perfezione terminale di scarico ragazzi la situazione non è per niente facile opzione 1 vado da un fabbro e mi faccio fare un raccordo opzione 2 suggeritemi voi esiste in commercio un adattatore si può fare qualcosa ragazzi sono anche un po nelle vostre mani se avete un'idea montare questo veramente mi attira non poco però voglio sapere da voi cosa ne pensate e soprattutto domanda delle domande perché vorrei anche provare a fare questa roba qua che secondo me non ha mai fatta nessuno per collegarlo non ci sono grossi problemi nel senso che come vedete qua più o meno ho già fatto un test fuori campo fuori ripresa e combaciano abbastanza limite è solo una questione di con la mia super power saldatrice andare a saldare un raccordo comunque con delle viti fare una staffa non è questo il problema il discorso è più che altro trovare ovviamente l'inserto giusto e soprattutto come si comporterà secondo voi cioè si comporterà bene nel senso che ci saranno dei vuoti abbastanza non così spaventosi e non così importanti o la moto diventerà totalmente inutilizzabile da questo punto di vista ragazzi sono abbastanza acerbo nel senso che non ho mai fatto una cosa del genere e dunque mi piacerebbe sapere da voi se qualcuno di voi a dovesse aver avuto già l'occasione di fare una fesseria così di sapere come come e se viene fuori una cosa fattibile allora ragazzi ho creato questa location notate vi devo confessare che vedere uno scarico completo che costa quanto mi spamela praticamente è sempre un'emozione ce la farà il nostro eroe ragazzi obiso non lo so il progetto mattizza certo questo acra suona divinamente e ovviamente rimarrà questo lo scarico principale per il momento di miss pamela però fare un qualcosa proprio idios alla veritalian idios se no che veritalian idios sarei se no perché mi seguite cioè ragazzi ebbene sì mamma mia credo che a volte azzarola se pesa le immagini valgano più dei fatti ragazzi ecco come si presentano i due scarichi vicino l'acra cianapovic sopra il gpr sotto che poi adesso a pensarci ragazzi potrebbe anche tornarmi utile per impennare perché io voglio fare anche una mini serie su io che imparo impennare perché sono veramente negato però questo qua darebbe molto peso sul posteriore dunque secondo me verrebbe su come una libellula benissimo ragazzi con questa inquadratura di questo top del top di questo gpr momentaneamente scatolato e con lei miss pamela il video di oggi finisce qua vedremo cosa riusciremo a fare nel frattempo io vi ricordo ragazzi e ve lo ricorda anche l'acra di iscrivervi al canale perché è importante ragazzi attivate mi raccomando la campanellina perché spesso youtube non manda le notifiche e non potete mica perdervi un video cioè adesso come si fa lasciatemi un commento qua sotto ragazzi io come sapete li leggo sempre tutti 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 se posso rispondo mi raccomando cosa importantissima mettetemi un bel pollicione all'insù così da farmi capire che quello che sto facendo vi piace noi ci vediamo ad un prossimo video vi ricordo come sempre che praticamente per quasi tutte gli accessori che vedete presenti nei miei video per quanto riguarda sia la moto che il quad mister michael la bici elettrica insomma più o meno per quasi tutto io cerco di aggiornare con tutti i prodotti che utilizzo che mi mandano o che prendo qua sotto in descrizione trovate i link dove poter acquistare i vari prodotti detto questo ho parlato troppo noi ci vediamo a un prossimo video fate i bravi peace iscriviti al canale